Andrea Maestrelli, nel corso della puntata del 13 febbraio del Grande Fratello Vip 7, ha parlato ampiamente del padre, Maurizio. L'uomo è morto a soli 48 anni a causa di un tumore al cervello. All'epoca Andrea aveva solo 13 anni e naturalmente è stato segnato dal lutto. Il, vippone, ha raccontato di aver amato il papà e di aver, maestrelli ha dimostrato di avere garbo, sensibilità ed educazione. Raccogliendo a più riprese i complimenti di Alfonso Signorini. In diretta si è poi palesata sua madre, Monia Materazzi, sorella di Marco e Matteo Materazzi. Marco è il noto ex calciatore dell'Inter e della Nazionale Azzurro. Monia si è complimentata con il figlio. Dicendogli che sta facendo un grande percorso nel programma di Canale 5 e di essere fierissima di lui. Andrea ha spiegato che, grazie al calcio, si è reso autonomo e indipendente. Ma che nutre la speranza di diventarlo con ancor più mezzi così da permettere alla madre di riposarsi e, godersi la vita, dopo che per anni si è presa cura della famiglia senza il marito e senza lasciare il suo lavoro. La donna è un avvocato. Il blocco con protagonista il calciatore ha conquistato tutti. Centinaia di telespettatori hanno trovato l'atteggiamento profondamente rispettoso del ragazzo degno di lode. Sui social, ha detto la sua anche una delle figlie del compianto Sinisa Mijailovic. Victoria, quanto ti capisco amico mio. Vi voglio bene. Ha scritto l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi che con Maestrelli condivide un solido legame di amicizia. I due inoltre hanno vissuto entrambi i lutti dei rispettivi padri. E proprio per tali dure esperienze, Vic ha voluto sottolineare pubblicamente il proprio sostegno per Andrea.